Grazie per l'invito e perché è da un po' insomma che non ci sentiamo facendo un attimo il punto della situazione visto che sono emerse ulteriori elementi ulteriori documenti e ulteriori elementi che confortano e danno supporto a quello che da due anni stiamo denunciando in senso lato del termine come legali dell'Associazione dei Familiari delle Vittime Covid di tutta Italia ovviamente in particolare nella Bergamasca, nella Lombardia ma di tutta Italia relative alla malagessio pandemica. Ora facendo un breve excursus, nel mese di aprile, fine marzo, inizio aprile di quest'anno Regione Lombardia ha depositato una relazione finale della commissione d'inchiesta regionale relativa proprio al periodo alla gestione della pandemia in Regione Lombardia nel periodo soprattutto riferito alla prima fase pandemica ma comunque a decorrere insomma dal febbraio 2020 fino alla terza quarta fase di questo virus, di questa pandemia. La cosa che è emersa e che riteniamo indecorosa e indecente è che la maggioranza che governa insomma Regione Lombardia ha depositato un atto autoassolutorio rispetto al comportamento istituzionale che è stato posto in essere dalla stessa Regione nella gestione pandemica. Per cui non era responsabilità di Regione Lombardia intervenire per l'istituzione di una zona rossa nei comuni della Bergamasca, non era responsabilità di Regione Lombardia di Regione Lombardia decidere di mantenere chiuso l'ospedale di Alzano Lombardo nella Bergamasca subito dopo i primi due casi di contagio rilevati nell'ospedale stesso nel pronto soccorso, non era onere di Regione Lombardia provvedere al reperimento e alle scorte di dispositivi di protezione individuale, di reagenti, di tamponi, di implementazione dei laboratori. Non era di fatto responsabilità di Regione Lombardia intervenire per tutelare la salute e la vita dei cittadini lombardi. Noi come legali dell'Associazione dei Familiari delle Vittime eravamo stati chiamati in Regione Lombardia per evidenziare quello che erano le nostre domande rispetto a fatti su cui Regione Lombardia doveva dare delle risposte che tuttora comunque risulta non abbia dato ed eravamo stati chiamati come auditi nel mese di luglio del 2021. Ecco, l'opposizione ha depositato una relazione finale conclusiva dei lavori della Commissione. In questa relazione nessuna dei nostri interventi con le nostre domande è stato riportato. Questo è abbastanza indicativo del fatto che quello che noi abbiamo denunciato nel momento in cui abbiamo individuato questo asse trasversale politico che va dalla Lega fino ad arrivare al PD, volto a non far emergere tutte le violazioni di legge, le omissioni istituzionali o comunque la malagestio istituzionale nella gestione pandemica è stato confermato anche da queste due relazioni. Di fatto, insomma, così come l'asse trasversale politico Lega PD ha fatto in modo che la proposta di commissione di inchiesta parlamentare per una commissione di inchiesta sulla gestione Covid diventasse una farsa con quei due emendamenti famosi su cui abbiamo anche fatto altri interventi volti a far indagare eventualmente questa commissione di inchiesta che, ripeto, non è ancora stata istituita né è stata calendarizzata nelle nuove sedute, insomma, di discussione delle proposte parlamentari. Ecco, comunque questi due emendamenti hanno portato a fare in modo che, qualora venisse istituita questa commissione di inchiesta, indagherebbe solo per fatti occorsi in Cina e solo fino al 30 gennaio 2020, cioè prima della dichiarazione dello Stato di emergenza. Allora, questo è indicativo rispetto alla posizione di Regione Lombardia, ma questa posizione di Regione Lombardia si inserisce in quel contesto che noi da due anni stiamo denunciando, teso a nascondere, a non voler rilevare quelle che sono le responsabilità istituzionali. E un ulteriore tassello di questo discorso sta nella sentenza, nell'ultima sentenza del Tara, in composizione giurisdizionale, che ha messo una pietra tombale alla possibilità di rendere pubblici tutti i documenti relativi all'invio dei militari nel 4 marzo del 2020 nel territorio bergamasco e dal successivo ritiro dei militari stessi nei tre giorni successivi. Allora, questa sentenza, se non fosse tragico sarebbe da ridere. In questa sentenza si dice che questi documenti non possono essere resi pubblici perché coperti da segreto di Stato, perché collegati a una operazione strade sicure volta a prevenire la criminalità organizzata sulle strade, senza peraltro spiegare perché questa operazione contro la criminalità organizzata e l'operazione strade sicure sia connesso con la decisione di inviare i militari militari nella Valle Seriana per istituire una zona rossa e poi decidere di ritirarli. Come se si dice in questa sentenza che non c'è stato alcun atto governativo e allora ci sfugge perché noi sappiamo, perché anche questo è stato reso pubblico, che il 4 di marzo, la sera del 4 di marzo, era stata firmata dal Ministro Speranza una delibera, un provvedimento di richiesta di istituzione della zona rossa nel Bergamasco. Per cui l'atto governativo in realtà c'è, probabilmente da questo atto governativo derivava la decisione di inviare i militari nelle zone della Bergamasca per istituire proprio la zona rossa. Diversamente questa sentenza potrebbe far intendere che insomma dai militari il mattino, un mattino si svegliano, decidono di andare a fare una passeggiata nella Bergamasca e poi dopo tre giorni decidono invece di rientrare nelle loro possedi. Scandalosa riteniamo questa sentenza, una sentenza che non ha alcun fondamento, riteniamo non abbia alcun fondamento diciamo di motivazione giuridica corretta, ma che di fatto conferma questa volontà di non rendere pubblici a tutti i cittadini i documenti che hanno influito sulla vita di tutti i cittadini. Non ci stupisce, non ci stupisce perché noi da due anni abbiamo assistito a questa favola e a questa presa in giro, possiamo così definirla, da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini italiani volta a insinuare e a far credere ai cittadini che le istituzioni fossero state colte impreparate. In quale senso? Perché loro dicono da due anni che non sapevano che ci fosse un piano pandemico seppur obsoleto, non sapevano che se anche ci fosse stato non fosse stato adeguato, che erano stati colti impreparati perché nessuno, nemmeno le organizzazioni internazionali, aveva messo in guardia gli stati, nella fattispecie l'Italia, dei rischi che stavano correndo nel momento in cui è arrivato il virus in Europa propagatosi dalla Cina. Allora, credo che noi come associazione e come legali da due anni stiamo dimostrando con i fatti che questo non è vero. Tant'è che nell'audizione al Senato del 21 di aprile, quindi di quattro giorni fa, il Ministro Speranza rispondendo a un'interrogazione a risposta orale urgente presentata dal senatore De Falco ad aprile del 2020, quindi due anni fa, e per fortuna che era un'interrogazione urgente a risposta orale, ecco, il 21 di aprile del 2022, cioè quattro giorni fa, il Ministro Speranza ammette che però tutte le istituzioni fossero da sempre a conoscenza dell'esistenza di un piano pandemico nazionale obsoleto del 2006. E quindi Speranza smentisce Speranza, ma anche l'OMS smentisce Speranza. E perché? Perché noi, due giorni fa, abbiamo recuperato un ulteriore documento. Questo documento è un alert, così chiamato, inviato dall'OMS il 5 gennaio 2020, in cui si didava l'informazione a tutti gli stati che era stato isolato un virus a trasmissione interumana in Cina, che probabilmente rientrava nella categoria della SARS, ma che comunque fino a quando non ci fossero stati delle informazioni più dettagliate anche relative alla sequenziazione del virus, cosa che peraltro, notizie e informazioni che peraltro sono state inviate all'OMS e quindi a tutti gli altri stati il 10 gennaio del 2020, ecco comunque dal 5 di gennaio 2020 si diceva che gli stati, fino a quando non avessero avuto informazioni più dettagliate, avrebbero dovuto applicare tutti i protocolli relativi alle infezioni respiratorie di origine sconosciuta. Questo documento altro e non era che un altro protocollo, addirittura risalente al 2014 dell'OMS, in cui si davano delle informazioni dettagliate relative agli strumenti da attuare nell'immediato, nel caso in cui si fosse verificata una situazione di trasmissione interumana di un virus respiratorio di origine sconosciuta. E che cosa di fatto nella sostanza erano queste indicazioni? Erano riferite soprattutto agli ospedali, per cui si diceva che negli ospedali è necessario che vengano individuati immediatamente percorsi separati tra persone che potenzialmente possono aver contratto l'infezione e pazienti che invece sono degenti per altre ragioni ma che non sono stati presumibilmente contagiati. Dispositivi di protezione individuali assolutamente indispensabili, distanziamento, individuazione di aree, non solo di percorsi ma di aree separate di degenza, insomma tutte informazioni che soprattutto davano le indicazioni su come poi, su quali comunicazioni corrette avrebbero dovuto essere date dalle istituzioni ai cittadini, perché questo rientrava nel requisito fondamentale, indispensabile per poter fare in modo che la cittadinanza si proteggesse per evitare quindi che ci fosse una diffusione incontrollata del virus causata da affollamenti di aree da parte di tante persone, quindi da riunioni, assembramenti e quant'altro. Cosa che in realtà si è verificata nel concreto effettivamente nel mese di febbraio 2020. Ricordiamo a tutti, addirittura dopo i casi di Alzano Lombardo e Nembro, le campagne volte a invitare la gente a continuare a uscire di casa facendo la propria vita senza alcun tipo di tutele, di protezione, di alert rispetto alla salvaguardia della propria vita. Ricordiamo tutte le campagne Milano sui Navigli, Bergamo non si ferma, le dichiarazioni dello stesso presidente di regione Lombardia che però, secondo nella relazione finale della commissione di inchiesta regionale, insomma di regione Lombardia, non ha alcuna responsabilità. Ecco le dichiarazioni del presidente Fontana che diceva uscite tutti mi raccomando non creiamo allarmismi perché questo virus è poco più di una banale influenza e non è letale, così letale nelle conseguenze. Ecco, di fatto con questo documento ulteriore, ultimo che abbiamo reso pubblico, noi dimostriamo un'altra volta ulteriormente che l'Italia era stata messa in guardia, quindi era stata messa in guardia a partire dal 2009, poi con la decisione del Parlamento Europeo del 2013, per arrivare poi ai protocolli di alerta addirittura dal 2014, poi nel 2017-2018, fino ad arrivare alla fine il 5 di gennaio del 2020, in cui si dice attenzione, noi sappiamo che c'è questo virus. Se gli stati non si sono preparati adeguando i propri piani pandemici, vi diamo un ulteriore ultimo avvertimento, andate a prendere quei protocolli che devono essere utilizzati nel caso di infezioni respiratorie di origine sconosciuta. Addirittura allegando in riferimento quello stesso documento, un documento sempre dell'OMS, che addirittura era datato 2014. Detto questo, riteniamo che sia abbastanza ormai inutile continuare a sottolineare la volontà omertosa delle istituzioni. Riteniamo invece assolutamente indecente continuare a sentire la favoletta che non c'era un manuale di istruzioni, perché abbiamo dimostrato che non solo c'era un manuale di istruzioni, ma avevamo pure la cassetta degli attrezzi pronta da utilizzare nell'immediato. quindi l'alerta con questo documento del 5 di gennaio del 2020 e non dimentichiamo il piano pandemico nazionale del 2006, che comunque rapportato con quello che prevedeva e diceva l'OMS in quell'alerta del 5 di gennaio 2020, di fatto prevedeva, dava le stesse identiche indicazioni. Quanto meno il piano pandemico nazionale del 2006, per quanto obsoleto, avrebbe dovuto essere utilizzato almeno in fase iniziale, perché quello che questo piano pandemico prevedeva in fase iniziale, nei momenti dell'immediatezza dell'inizio della pandemia, avrebbe contribuito ad attuare tutte quelle misure di individuazione tempestiva dei casi, di isolamento e poi di tracciamento, che avrebbero poi impedito questa diffusione, quella che poi si è verificata come diffusione incontrollata del virus. E tante, tante migliaia di vite umane, come attesta lo stesso professor Crisanti, avrebbero potuto essere risparmiate. Noi riteniamo che non ci sia alcun alibi che possa essere riconosciuto alle istituzioni, sia governative centrali, sia regionali. Perché la consapevolezza del poter intervenire con gli strumenti che addirittura a livello organizzazione internazionale va messo a disposizione e non averlo fatto, non può rappresentare una scusante per questa malagestia sanitaria che è costata la vita a migliaia di persone. Le scuse, le scuse che non ci sono mai state. Tutto quello che abbiamo fatto emergere è relativo alla consapevolezza delle istituzioni, di quello che stava effettivamente succedendo a partire dal 5 gennaio 2020. All'indecenza della presunzione che continuano a rappresentare le istituzioni autoassolvendosi e continuando a dire, nonostante i documenti dicano il contrario, che le istituzioni sono state colte alla sprovvista, credo che questo sia un comportamento che non sia degno nemmeno di essere considerato decente da parte dei cittadini, che al contrario continuano a sentirsi mancare di rispetto. credo che si debba arrivare alla conclusione che siamo stanchi, siamo stanchi di subire questi tentativi di riscrivere la storia, oltretutto tentativi artefatti che suonano veramente come ingegnosi nella loro ricostruzione che non ha alcun fondamento documentale e fattuale. Penso che si debba arrivare adesso, come ha anche peraltro annunciato il senatore De Falco, a insistere perché venga istituita una commissione di inchiesta bicamerale che indaghi sulla gestione pandemica a partire dal 5 gennaio 2020 e almeno fino all'anno in corso, quantomeno fino al dicembre del 2021. Lo si deve a tutti i cittadini, lo si deve a tutte le vittime, perché si sente spesso, si sentono spesso dichiarazioni istituzionali di vicinanza alle vittime e ai familiari delle vittime, ma in realtà la vicinanza delle vittime si dimostra portando rispetto alle vittime, andando a indagare cosa non ha funzionato nella gestione pandemica che ha portato a oltre 280 mila morti secondo i dati di Istat aggiornati al mese di marzo 2022, perché solo dagli errori si può imparare.